Benvenuto a San Bellegrino, bentornato a noi. Grazie. Grazie. Poi è un macro, devi mettere un po' di giro. Il cartello. Il cartello non è. L'abbiamo appena appena fatto in tempo. Piacere, ancora non ho fatto in tempo ad allestire. Coraggio, eh. Ce la mettiamo tutti stavanti. È già il fatto di aprire molto importante. Come per noi è molto importante. Stiamo, ecco, ridiamo la normalità. Comunque. Grazie, grazie a voi. Auguri. Quindici anni fa con la mia compagna vicina di Banco. Mamma mia. Presidente, guarda. Prendete la sotto però. Non la devi tirare. Prendila, ecco. Così vedi. Allego. Vedi il cartello. Guarda, vedi il cartello. Guarda. Il servizio. Guarda. Stavola. Guarda. Non lo puoi fare. Vedi il cartello. Guarda. Guarda, guarda. 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 Guarda, guarda. Guarda. Grazie per essere benvenuti. Grazie per essere tornati.